Dobbiamo iniziare il montaggio di questa porta a scrigno Praticamente la prima cosa che dobbiamo fare Scorrevole 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 Va bene Dobbiamo togliere questi tasselli Vedete che fermano questo telaio Ok Sono rivetti Tutto rivettato Vedete? È un rivetto Bisogna consumarlo con l'appunto del trapano E poi togliere questa lamiera Tegliamolo tutto e poi vediamo come rimuovere Pugno Sobretto Pugno Siamo pronti Pugno Pronti Pugno Pugno